Ciao, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno da una helicovizzata. Allora, mi sentite un po' affannata ma non perché il covid, è perché ho fatto le scale per andare a prendere le cose, quindi sono un po' affannata. Allora, buongiorno a tutti, come vi ho detto sui social, purtroppo, anch'io, dopo averla scampata per questi due anni e mezzo, l'altro giorno sono risultata positiva al covid, niente di strano, nel senso che purtroppo è così, prima o poi lo prenderemo tutti per fortuna, siamo vaccinati per fortuna, per chi sta bene, comunque, diciamo, è una piccola complicazione, certo è che poi, appunto, tutti in casa distanziati, io ho relegata nella mia camera, chi abita con me, ovviamente, deve usare la mascherina per andare al lavoro, per andare a scuola, eh, vabbè, arriverà probabilmente, io penso, anche il momento in cui toglieremo la mascherina e lo prenderemo come prendiamo una semplice influenza, questa è la mia semplicissima opinione, ma, vabbè, mi vedete un po' stramusciata perché, come nei tempi del lockdown, sotto sono in pigiama e sopra mi sono cambiata per essere presentabile, come dice la rinella. Allora, oggi, ehm, per la prima volta vi parlo di profumi, vi racconto, neanche vi parlo perché io non sono un'esperta, eh, conosco molto poco, ehm, quelle che sono tutte quelle caratteristiche, ehm, anche tecniche dei profumi, io sono una che va di, eh, pancia, di cuore, eh, quello che il profumo mi regala è una sensazione, è un ricordo, è un'emozione. Eh, il profumo, i profumi fanno parte della mia vita da, da sempre, ed è forse per questo che non ve ne ho mai parlato, anche nei, nei video precedenti. Allora, io alla Cosmesi mi sono avvicinata molto tardi, eh, mentre i profumi fanno parte della mia vita da, da sempre, ma qualsiasi tipo di profumo, lasciamo perdere le fragranze che sono una parte importante della mia vita, ma, ehm, i profumi, per esempio, legati ai cibi, i profumi, legati alle persone, legati a quel ricordo, cioè io ho in mente, per esempio, chi di noi, o almeno io penso, perché confrontandomi con tante mie amiche, più o meno della stessa età, ho in mente, per esempio, tornando a casa la domenica dalla messa, sentivo, eh, il profumo del risotto. Oppure, eh, sentivo il profumo del lesso, in quelle giornate autunnali, invernali, quel profumo, eh, di carne, di noce moscata, che, a descriverlo così, sembrerebbe una bagianata, no? Una stupidata. Eppure a me questo profumo di lesso ricorda la famiglia, ricorda l'intimità di un pranzo, domenicale, dove, eh, beh, cioè, scusate, ma mi sto emozionando, perché, effettivamente, eh, i profumi mi creano delle emozioni, delle emozioni molto, molto forti. Eh, ho, per esempio, un profumo che ricorda il mio papà, lui usava il dopobarba intesa, che, eh, la mia mamma gli comprava al supermercato, o ancora prima che esistessero i supermercati, eh, nel negozio di alimentari, che, eh, quei negozi di alimentari, che sono una chicca, che ormai non ci sono più, no? Dove c'era di tutto, c'era dalla, eh, dalle calze, c'erano le stringhe, c'era il lucido, c'erano i profumi, c'erano il dopobarba, eh, c'era, eh, la parte alimentare, ecco. E, eh, tutte queste cose, tutti questi profumi, sia mangerecci, eh, sia, eh, profumi legati proprio a delle fraganze, mi regalano, eh, delle emozioni, mi riportano alla mia infanzia, mi regalano dei momenti, no? Dei ricordi molto profondi, ma, hm, bisognerebbe parlarne per una vita intera, poi forse non basterebbe neanche. Io oggi, eh, ho pensato di, eh, raccontarvi quattro profumi, eh, ne ho scelti solo quattro perché parlerò per duemila ore, nel senso che qua, ieri, eh, avendo tempo, eh, mi sono comprato un bel quadernetto, e, eh, mi sono segnata tutto quello che potevo segnarmi, eh, quindi sicuramente salterò di paleo in frasca, eh, sarò ovviamente disordinata come lo sono in tutte le mie spiegazioni, in tutti i miei racconti, ma io so che, eh, ad alcune persone piaccio proprio perché sono così e quindi, eh, diciamo, faccio breccia nei cuori di queste persone, insomma, cercando di, eh, così, farvi, trasmettervi quello che, eh, i profumi regalano a me e quali sono le, le mie emozioni. Eh, volevo innanzitutto, prima di cominciare a raccontarvi questi profumi, eh, segnalarvi, al momento solo quattro, nel senso che seguo tantissimi, ma tantissimi canali di, eh, ragazzi e di ragazze che, eh, sono veramente molto, molto preparati, eh, mi regalano la voglia di acquistare tutti i profumi che esistono a questo mondo. Io adesso ve ne segnalo solo quattro, ma perché, eh, voglio darvi l'opportunità di guardare i loro canali, di conoscerli, di vedere i loro contenuti, poi man mano che parleremo di profumi, aggiungerò altre persone, altri canali, eh, al quale io mi sono approcciata e che mi piacciono tantissimo. Il primo canale che vi voglio segnalare, poi vi ricordo che metterò tutto nell'info box, perché adesso ovviamente ve li, così ve li elenco molto brevemente, è quello di Rita, eh, Rita Parfum, che è una donna splendida, molto preparata, eh, che, eh, quando descrive i profumi lo fa con un'eleganza e con una competenza che mi ha affascinato, eh, davvero tantissimo. Poi, eh, vi segnalo il canale di Elena, che ho scoperto solo ieri, che si chiama Elena e, eh, sono contentissima perché mi trovo in sintonia con lei tantissimo, che ha un canale stupendo, molto particolare perché lei non si fa vedere ma racconta, eh, i profumi mostrandoli, ma, mh, non vediamo la sua faccia. Ed anche questo è molto molto originale perché, mh, così, mh, è un modo diverso di, di proporsi. Elena, il suo canale è, eh, profumeria con Salotto ed è, eh, un bellissimo canale. Lei ha una voce molto tranquilla, molto suadente, molto, eh, rilassante. A me piace tantissimo ascoltarla perché mi infonde davvero quella tranquillità, eh, che, eh, mi regala quel momento così di pausa, eh, giornaliera, eh, molto, molto piacevole. Poi, eh, un canale che ho scoperto veramente da pochissimo, eh, è il canale di Stefania che si chiama Parvana Stefania, una ragazza carinissima, una creativa, lei fa dei gioielli che sono meravigliosi proprio come lavoro, eh, crea gioielli, eh, e il suo canale è molto ricco, eh, una ragazza molto, non so come dire, che regala, eh, un'aurea di tranquillità, di, eh, simpatia, di allegria, però, eh, sui toni davvero molto molto delicati, mi piace tantissimo. E poi invece la frizzantissima Debbie che io amo e adoro, è più o meno mia poetanea, mi piace tantissimo perché è una donna energica, è una donna vitale, eh, ha questo modo di presentarsi spettacolare, ha un fisico invidiabile, eh, oltre che a parlare ovviamente di profumi, ma, di cosmetici, di svuota la spesa, insomma, questi io li ho scoperti, eh, cercando proprio profumi su YouTube e questi sono quei primi quattro canali che vi voglio segnalare. Allora, io, eh, ho cominciato a usare i profumi praticamente, mh, all'inizio delle scuole medie. Eh, mia mamma non ha mai usato, eh, profumi in vita sua, mai. Eh, vi racconto un aneddoto dove io sono rimasta veramente malissimo. Eh, io abito a Lecco, eh, una zona vicina alla Valtellina, vicina a Livigno, dove tanti anni fa, ovviamente, eh, c'era la possibilità di acquistare i profumi, eh, ad un prezzo, mh, molto conveniente, non veniva applicata a Liva e non viene applicata neppure adesso, ma non c'è più nessuna convenienza a comprare né profumi, né alcolici, eh, forse le sigarette, ma, mh, da fumatrice quale sono? Le sigarette di Livigno hanno un sapore diverso dalle sigarette che, eh, trovo qui, ma lo so che poi mi bannerete per questo messaggio. Comunque, indipendentemente da, da che io sia una fumatrice oppure no. Eh, io andavo, eh, spesso a Livigno, eh, con il mio papà, ma vi racconterò magari in un'altra storia le avventure roccambolesche di mio padre quando andavamo a Livigno. E, eh, e quindi compravo, mh, compravo alcuni profumi, eh, che all'epoca, negli anni 80, 90, eh, davvero avevano dei prezzi molto, molto concorrenziali. Eh, un anno vado a fare la settimana bianca con la mia zia Franci e i miei cugini, e il mio zio Carletto. Eh, ovviamente, come regalo, porto alla mia mamma un profumo che, ehm, mio cugino Riccardo, essendo un amante dei profumi, eh, e, eh, regalando profumi di un certo livello alla sua mamma, mi ha consigliato di regalare alla Rinella il profumo Fiji, che non ricordo se è di Kenzo o di qualcun altro. Comunque ricordo benissimo, ehm, questa confezione fatta a foglia molto, molto allungata, era un profumo veramente delizioso, lo porto a casa mia mamma, contentissima, era una ragazza di 14 anni, una bambina, una bambina, una bambina barra ragazzina di 14 anni, pensando con i suoi risparmi di aver fatto un regalo veramente meraviglioso, perché io adoravo i profumi, e, eh, mia mamma apre il profumo e dice, ah, sì, vabbè, tanto ormai è il metti mia, tanto oramai non lo metto, io sono rimasta veramente delusissima. Avete in mente quelle frasi che vi ricorderete per tutta la vita? Adesso, prendiamola per quella che, cioè, mia mamma era così, non aveva mai usato un profumo, anch'io non è che potevo pretendere di portarli così, un profumo. Poi, ai tempi, insomma, era anche un profumo abbastanza particolare, no? E mi ricordo che, appunto, mia zia l'aveva sgridata, ma insomma, Rinella, la Elena ti porta un regalo e tu fai finta di niente. Vabbè, parte da qui, diciamo, il mio amore per i profumi. Quel profumo mia mamma non l'ha mai usato, nonostante fosse un profumo da donna, eh, ho cominciato ad usarlo io. Ho cominciato ad usarlo io e ho cominciato poi a esplorare un po' i profumi. Non c'era internet, non c'era, non c'era la possibilità di provare magari i profumi nelle profumerie per una ragazzina di 12-13 anni, quindi nulla. C'era il mio giornalaio che vendeva le collezioni di profumi nei giornaletti, insomma, queste cose qua. Io ho cominciato ad acquistare queste collezioni che ho ancora tutte in una vetrinetta che poi vi mostrerò magari più avanti in una fotografia, in una vetrinetta che ha costruito il mio vicino di casa che si chiamava Salvatore, che si chiama Salvatore perché esiste ancora. E lì ho riposto tutti i miei profumi. E pian piano che provavo questi profumini, questi campioncini, che attenzione non erano campioncini quelli così anonimi che danno adesso e se te li regalano te li regalano per misericordia perché tutti dicono che le case di profumeria non regalano più campioncini. Non lo so questa cosa, ma erano dei veri e proprio, erano dei gioielli, cioè erano le miniature del profumo originale ed erano bellissime. E così ho cominciato ad entrare in questo mondo profumato, meraviglioso dei profumi. Ma a parte tutta questa introduzione e vi sarete già rotti le balottas, partiamo da questi profumi. Allora, ah, un'altra cosa no, prima vi dico, prima di così descrivere i profumi. Allora, i profumi quando li metto? Sempre. Li metto alla mattina, appena esco di casa per andare in ufficio, li metto quando rientro, li metto durante la giornata, se sto facendo i mestieri o voglia di sentirmi energica, allora mi spruzzo un profumo energico. O voglia di coccolarmi, mi spruzzo un profumo gourmand. Dopo la doccia, generalmente un profumo molto delicato, delle acque profumate, che uso comunque tutto l'anno. E la sera, prima di andare a letto, come Mary Gimorron, non mi spruzzo e non mi metto 5 gocce o 3 gocce di Chanel numero 5 perché l'ho provato e purtroppo non mi piace, non è nelle mie corde. Ma ho dei profumi che tengo molto intimamente per me, per la sera, perché alla sera, quando io vado a letto, ricordo la giornata, ricordo le persone che ho incontrato, faccio un bilancio, ricordo i miei figli, penso a quello che sarà magari il programma della giornata successiva e tutto questo lo faccio indossando un profumo e uno di questi che vi presenterò è proprio quel tipo di profumo. questi profumi li ho portati d'estate, questa è stata un'estate anomala, un'estate davvero molto 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 calda, un'estate che se ti spuzzavi un profumo che era un po' sopra le righe ti veniva la nausea, ma io nonostante tutto questi profumi me li sono gustati, tranne un'acqua profumata che è la prima che vi presenterò, che ho acquistato a fine agosto l'ultima settimana di agosto e che comunque ritengo possa essere un profumo a tutti gli effetti, non un'acqua profumata, un profumo a tutti gli effetti che appartiene a questo periodo di transizione tra fine estate o comunque estate e l'introduzione del periodo autunnale, quel periodo che è ricco di profumi e la stagione è più bella, per me è ricca di colori, io adoro i colori, cioè i colori dell'autunno sono meravigliosi, il colore dell'uva matura, il colore delle foglie a terra che troviamo che cominciano a cadere dagli alberi, quei colori marroni, rossicci, alcune verdi, il colore della frutta matura, delle pere, la pera è un frutto che mi piace tantissimo in questo periodo, il profumo dei colore dei fichi, cioè quel viola intenso o magari anche quel verde che vira il viola, il profumo della natura che ci sta regalando così tanto e così tante emozioni, così tanti profumi per poi andare a riposo e ricominciare poi verso la primavera e l'estate a regalarci ancora queste meraviglie, non che poi l'inverno non ci siano dei profumi che siano interessanti o piacevoli perché io non ho una tipologia di profumo che uso solo in inverno, in estate, in primavera, in autunno, i profumi che ho li uso sempre e spesso, alcuni magari certamente li uso più in alcune stagioni ma generalmente sempre utilizzo tutti i profumi che io ho aperti ed è per quello che ne ho così tanti ed è per quello che non mi baso sui profumi di nicchia se non in un caso o due, che non mi baso su profumi molto costosi prima perché non me li posso permettere, lo dico francamente, ma ci sono dei profumi low cost, per me low cost è un profumo che va dai 20-25 euro in giù a dei profumi comunque di prezzo medio che sono sui 50 euro che sono rispettabilissimi e non hanno nulla da invidiare ai profumi di nicchia. Mi piacerebbe conoscere la profumeria di nicchia anche se è un cammino un po' più articolato dove dovrei conoscere molto bene anche le fragranze e io purtroppo vado molto a naso, a naso mio però, però questo sarebbe comunque una strada che mi piacerebbe così cominciare a percorrere e cominciare a conoscere. Avevo ancora una cosa da dirvi che mi è venuta in mente adesso ma non me la ricordo più, vediamo se sul mio quadernetto ho scritto qualcosa. Il primo profumo di cui vi parlo è il profumo in assoluto, questa è un'acqua profumata, che io non ritengo un'acqua profumata, un'acqua profumata che hanno descritto in tantissime persone, trovate tantissime recensioni, io l'ho scoperta solo ora, ho scoperto questa casa Nani che è tra l'altro una casa produttrice di profumi, di cosmetici, scusate di detergenti prodotti per la casa e prodotti per il corpo che è della Lombardia, non ricordo, Cesano Maderno, quindi è anche vicino a me, io abito a Lecco, vabbè qua io non vedo assolutamente niente, comunque questa è il suo packaging esterno, è il suo packaging, punto, non è venduta in una scatola, l'ho trovata per puro caso perché nei momenti di pausa in cui in queste settimane andavo a portare la mia amma a fare le terapie per la cervicale, sono andata nel mio marker cinese preferito che si chiama Fashion Home, non so, deve essere una catena che comunque c'è in tante parti d'Italia, io mi trovo molto bene sia dal punto di vista dell'abbigliamento, signor, me sta venendo una scalmana, sia dal punto di vista dell'abbigliamento che dei profumi e dei cosmetici, dei prodotti per la casa e tant'altro insomma, e in questo totem che c'era nel reparto profumeria, queste acque profumate erano scontate a 1,55€, cioè ascoltate bene, 1,55€, ok? E io ho detto vabbè anche non si potevano provare perché i tester da noi non esistono, o li fregano o li distruggono e quindi io, perché sono una persona educata, non apro le confezioni, e ho detto vabbè per 1,55€, ma il che vada la uso per profumare l'ambiente. Ragazzi, un'acqua profumata, ripeto, che non ha nulla dell'acqua profumata, allora io me la sono già spruzzata ieri quando ho fatto i test perché c'avevo sulla camera che davvero era una profumeria. Allora, questa è un'azienda italiana lombarda del gruppo Suarez e appunto hanno un costo davvero molto limitato, lì si trova da 1,50€, 1,55€ ai 3€ al massimo, di più non salgono. Su internet li ho viste che costano anche molto di più, quindi se riuscite ad andare a trovarle da Tigotà, Acqua e Saponi o in altre catene che trovate nella vostra città sicuramente risparmiate. 75ml di prodotto, mi piace tantissimo il packaging e l'immagine di questi fiori trasportati dal vento è cambiata perché quella che c'era prima aveva un ramo con delle bacche di, non so se era la noce moscata o vaniglia, no la vaniglia non mi pare perché la vaniglia è un'altra bacca, comunque aveva un'altra raffigurazione, un altro disegno e che dirvi, io adesso ve lo spruzzo, le note me le sono. Allora, questo profumo rimane sulla mia pelle almeno una giornata intera. Sui vestiti rimane tantissimo tempo, dovete lavarli, altrimenti vi rimane. Allora, è un profumo dolce che sa principalmente di vaniglia, non ho trovato le note olfattive quindi io vi racconto quello che sente il mio miserabile naso. Una vaniglia che poi dopo la prima mezz'ora, qui sentite proprio una vaniglia, una vaniglia dolce, una vaniglia da torta, una vaniglia da estratto di vaniglia quando fate la torta alle mele in autunno, quando fuori fa freddo e voi usate il bacello e lo mettete o nel latte oppure se avete la polvere però di vaniglia bourbone, quella non, quella chimica, cioè proprio la vaniglia, vaniglia che costa un patrimonio, che vi dura una vita ma che è vaniglia. Un profumo di torta, ma per me pian piano si evolve, sembra impossibile ma alla fine io quello che ci sento è il profumo sì di vaniglia, di frittelle, di Luna Park, ma io sento il profumo dello zucchero filato e lo zucchero filato a me riporta alla memoria dei momenti bellissimi, legati a quando da adolescente andavo a Luna Park e le frittelle non mi piacevano ma ero molto golosa di zucchero filato. Di quello zucchero filato che negli ultimi anni non era più solo bianco ma l'avevano fatto anche di altri colori, quindi c'era quello zucchero filato verde, azzurro e quello rosa. Ecco, a me questo ricorda lo zucchero filato rosa delle bancarelle del Luna Park, di quelle feste di fine estate, di paese dove senti il profumo delle frittelle, dei tortelli con lo zucchero che con il calore della frittella e del tortello si fonde e si unisce alla pastella, quel profumo intenso, quel profumo di dolce zuccheroso, un profumo molto gourmand, un profumo che davvero mi riporta alla mia infanzia, un profumo che allora questa come vi dicevo io l'ho utilizzata soltanto a fine estate ma che secondo me è perfetta per questo periodo di transizione diciamo così tra l'estate e l'autunno e poi ci porterà all'inverno. Io sono sicura che questa fragranza è portabilissima anche in inverno, in una giornata piovosa, in una giornata in cui magari siete sui mezzi, sta piovendo e avete voglia di quella coccola, di quel sentirvi a casa, di quel sentirvi abbracciato da quel profumo così caldo, così zuccheroso come che è quello dello zucchero filato e della vaniglia, di quel profumo di torta, di famiglia, di condivisione di una torta con una tazza di tè profumata, ecco questo per me è questo profumo, un profumo davvero che dura tantissime ore, probabilmente il più duraturo, si dice così, di tutte queste quattro fragranze che io ho provato e vi sto così raccontando, mi piace, mi piace tantissimo, ecco mi ricorda anche molto il sapore, il profumo di quei lecca lecca giganti fatti aggirandola che hanno diciamo la spirale bianca e la spirale rosa o la spirale bianca e la spirale azzurra, no? Cioè quel momento giocoso in cui da ragazzini, da ragazze si andava a Luna Park, magari anche non per salire sulle giostre perché a me per esempio non piaceva andare sulle giostre, avevo paura, ma così proprio per condividere un momento di gioia, di festa, di allegria insieme a degli amici, no? Ecco, di questa linea ho guardato sul sito, c'è anche la crema mani, c'è il gel igienizzante e disinfettante per le mani e anche il shower gel, quindi il bagno schiuma, giusto, ho fatto la traduzione giusta, adesso sta arrivando un raggio di sole che balza la Eli e nulla, quindi magari andate a fare un giretto se non conoscete queste acque profumate, penso sia impossibile perché io penso di essere l'ultima che ha scoperto queste acque profumate e ne ho comprata anche un'altra che è Japan Flowers o Flowers Japan che vi racconterò più avanti se avete piacere che vi racconti così i miei profumi in questa maniera un po' molto molto particolare. L'inci è ottimo, per 1,50€ troviamo una profumazione che ha all'interno aloe vera gel bio, non ci sono parabeni, non ci sono coloranti e non ci sono peg, quindi direi un inci di tutto rispetto, poi ovviamente c'è il, ci sono i profumi, c'è l'alcol perché essendo un profumo è chiaro che ci sia, però devo dire che mi è piaciuto tantissimo e soprattutto per il prezzo, se non li avete mai provati io una prova la farei anche, la farei e se proprio non vi piace fate come me, fate degli stampi, ve l'avevo fatto, ve l'avevo detto l'altro giorno in una fotografia, degli stampi di gesso, il gesso più povero che trovate sul commercio, il gesso poroso, che così quando voi lo impregnate di profumo proprio va all'interno e poi pian piano lo rilascia. Io ho usato degli stampi, delle tortine, dei muffin con la forma di rosa, a forma di, non mi ricordo più, o comunque gli stampi di sapone, insomma qualsiasi stampo voi abbiate in silicone va sempre bene, fate il vostro stampo in gesso e poi ci spruzzate un'acqua profumata o un profumo che non è più nelle vostre corde, che non vi piace più, comunque che non volete più sulla pelle ma che è gradevole da sentire nell'ambiente e io ho fatto così, profumo l'ambiente con questi stampi di gesso. Bene, passiamo al secondo profumo che ho scoperto grazie a Debbie. Ah ecco la cosa che volevo dirvi ma che mi sono dimenticata, questa è la rinella. Aspettate. Bene ragazzi, ho parlato per quasi 20 minuti e mi sono accorta che non stavo registrando effetto covid. Allora, come vi dicevo era la mia mamma che mi chiamava per aggiornarmi che devo andare a pagare i fiori del cimitero del mio papi, anche questo fa parte della vita quotidiana. Allora, questo profumo che adesso vi presento l'ho acquistato grazie ai consigli di Debbie, Debbie del canale Debbie My Life. L'ho comprato su notino e io compro generalmente a scatola chiusa, al buio. Non mi piace andare nelle profumerie se non quelle in cui ci sono delle persone particolarmente tranquille che non mi assalgono appena entro, che non mi fanno sentire subito tutti i profumi appena usciti e mi vogliono far spendere un sacco di soldi, ma voglio essere libera di poter scegliere le fragranze come voglio io e quindi generalmente non mi affido alle profumerie fisiche, mi affido alle profumerie online, alla descrizione che fanno tanti amici che hanno dei canali e che trovo nelle mie corde e poi pazienza se sbaglio lo utilizzo come profumo per ambienti e così sia. Generalmente però tutti gli acquisti che faccio sono acquisti indovinati, sarà una che si accontenta è probabile. Allora questo profumo che io ho comprato più o meno a luglio grazie ai consigli di Debbie è il profumo live di Jennifer Lopez. Adoro Jennifer Lopez come attrice e come donna e è un profumo molto fresco. Come note di testa abbiamo ananas, limone di sicilia e arancia italiana. Note di cuore, fiore di ribes rosso, peonia e violetta. Note di fondo o di base, caramello, sandalo, fava tonca e vaniglia. È un profumo che ha sulla mia pelle una durata abbastanza significativa dalle 4 alle 5 ore, io me lo spruzzo magari alla mattina prima di andare al lavoro e lo sento fino a quando ritorno. Se poi voglio integrare lo rispruzzo ancora oppure faccio un layering e mi spruzzo altri profumi che possano star bene con questa profumazione. Ma generalmente profumi fruttati. Cosa avverto appena lo spruzzo? Avverto un profumo, adesso lo spruzziamo, me l'ero spruzzata prima ma non l'avevo registrato ovviamente e quindi lo rifacciamo. Avverto un profumo molto intenso di ananas. L'ananas secondo me nelle note di testa è quella più preponderante che poi pian piano si va a mescolare con il profumo agrumato dei limoni e dell'arancia. Principalmente però sento ananas e limone. L'arancia italiana la sento veramente poco o comunque nel mix di profumi agrumati l'avverto poco. Poi è un profumo che ha una certa evoluzione sulla mia pelle. Vi ricordo che i profumi andrebbero spruzzati su una pelle molto ben idratata. Quindi una pelle che alla mattina o alla sera o quando vuoi mettete deve avere una base di crema perché una pelle idratata raccoglie molto meglio le note, le fragranze e poi pian piano le sprigiona. Una pelle secca diciamo il profumo rimane sulla superficie ma poi non viene così regalato poi a una durata minore. Allora dopo la prima mezz'ora io sento che il profumo così fresco così anche pungente se lo vogliamo descrivere del ananas viene catturato dal profumo del caramello, quel caramello salato che è dolce sì ma non troppo e della vaniglia. Ma comunque su di me adesso chiaramente non è passata mezz'ora ma queste sensazioni le ho scritte ieri quando ho fatto tutti i test. Sulla mia pelle rimane appunto questa sensazione di freschezza data dall'ananas e dagli agrumi e pian piano si evolve e si arricchisce della vaniglia e del caramello. Il sandalo non lo sento, la fava tonca non la sento. Come vi ho detto il mio non è un naso esperto. Questo profumo per 100 ml io l'ho comprato su notino e l'ho pagato 24,80 euro. Cosa mi ricorda? Che sensazioni mi dà? Mi ricorda un aperitivo, un aperitivo in riva al mare, un aperitivo in campagna, un aperitivo di fine estate non un'estate calda come quella che abbiamo avuto, un'estate che ci regala un vento ristoratore, un vento rinfrescante, un profumo di frutta fresca, di spiedini di frutta fresca, di quelli spiedini che preparate quando fate magari un aperitivo con un prosecco, con dentro dei pezzettini di ananas, con dei frutti rossi, la buccia del limone, la scorza del limone. Un aperitivo così molto frizzante, molto rinfrescante e poi pian piano avverto quella nota di caramello, quel caramello, quel caffè al caramello che non è un caffè così intenso ma profuma più di quel caramello del dulce de l'ecche, io che sono una blogger dovrei saperlo, non mi ricordo mai come si dice, quel caramello salato che ha quel profumo davvero molto interrogante tra il dulce e il salato, non troppo fastidioso ma molto avvolgente e alla fine secondo me sulla mia pelle si trasforma in un profumo così, sicuramente un profumo molto molto più fresco del vento del sud, un profumo fiorito e fruttato più che fiorito, fruttato e fiorito insieme, non troppo gourmand che secondo me è adatto benissimo a tutta la stagione estiva, anche molto calda ma anche adatto all'inizio dell'autunno dove ci sono ancora quelle giornate tiepide, calde che poi si trasformano in serate un po' più fresche dove si mette il maglioncino, dove si mette la giacchina ma dove si apprezza ancora un aperitivo alla frutta insomma, non un aperitivo magari più strong, più intenso, è un profumo per me delizioso, mi è piaciuto tantissimo, sono stata contenta di averlo comprato e sicuramente lo utilizzerò ancora per qualche settimana in questo autunno fresco che ci accompagnerà poi all'inverno. So già che sto parlando da un botto di tempo, voi spezzate il video se siete stufi. Questa è la mia chicca, o meglio è l'unico profumo che ha un prezzo esorbitante nella mia collezione. Questo profumo ve l'avevo fatto vedere perché me l'aveva regalato Paolo sotto mia indicazione che avevo mandato i link a Lucia che mi ascolta sempre e mi vuole bene e il profumo acqua allegoria flora selvaggia di Guerlain. Che dirvi? Allora, come tante persone ho letto un po' di recensioni, ho cercato di non farmi coinvolgere dalle recensioni che ho letto, ma le ho lette per vedere se era quello che pensavo anch'io. All'inizio questo profumo, quando me lo sono spruzzato, ho detto mezze, cioè cent'euro di profumo per un profumo alla violetta. Va bene. Ok. Questo profumo però, secondo me, va capito e va assaporato nel tempo. Innanzitutto questo profumo mi ha ricordato la mia nonna Ernestina. La mia nonna paterna si chiamava Ernestina e nella sua camera, e io ho avuto una storia molto particolare con la mia nonna. Non ve la racconto qui perché sennò andremo alle calende greche, ma diciamo che non aveva un buon rapporto con la mia mamma. Mio papà era figlio unico e lei si è sempre sentita usurpata di questo figlio da parte della nuora, qualsiasi nuora fosse stata. E quindi io, pur abitando vicino, alla fine abbiamo abitato per qualche anno insieme e poi, niente, siamo veramente scappati. Scappati nel senso che una mattina, un mezzogiorno, io mi ritrovo mia mamma fuori dalla scuola alimentare, che ero in prima alimentare, mi dice non torniamo più a casa, andiamo dal nonno che era il suo papà. E poi le cose poi però, pian piano, si sono sistemate. Quindi io andavo in vacanza dalla mia nonna 15 giorni d'estate. E in questi 15 giorni andavo nella sua camera. Nella sua camera c'era un barattolo di cipria con il puff, puff, mi metto in mente qui, un barattolo di belletto che serviva come rossetto, una cialda di belletto che serviva sia come rossetto che come fard, come belletto, e un profumino di acqua di parma alla violetta. E questo profumo mi ha ricordato la mia nonna. Cioè, al momento voi sentite la violetta, la violetta, il profumo della violetta è preponderante, è fortissimo. Avvertite, almeno io avverto all'inizio solo quello. Allora, vi dico le note di apertura. Note acquatiche, violetta, melone, fiori di campo. Allora, io le note acquatiche non le ho davvero sentite né all'inizio né dopo un po' né alla fine. Le note di cuore sono note solari, gelsomino, fiori d'arancio, note di base di fondo, violetta, iris, muschio bianco. Questo è un profumo recente nato dai nasi di Thierry Wasser e Delfin Jack. Sono professional, lo sapete. È una fragranza leggera e molto delicata, veramente. Adatta alla primavera, adatta all'estate, adatta a quell'estate anche calda come quella che abbiamo avuto, ma secondo me è perfetta anche per l'autunno. Allora, nel primo secondo voi avvertite l'alcol. Quello che avverto è questo. Nel secondo secondo l'alcol non c'è più. C'è questo profumo intenso di violetta e di anguria. Io la sento così. Qui dicono melone, ma secondo me non è melone. È la buccia verde dell'anguria. Io ho fatto, nella mia vita da foodblogger, la marmellata di buccia d'anguria e questo è il suo profumo. È molto bilanciato con la violetta. Non sento solo la violetta, non sento solo l'anguria, sento la violetta e l'anguria insieme. Un profumo delizioso, un profumo molto fiorito. Dato dalla violetta, ma dato secondo me anche dal gelsomino e dai fiori di arancio che sono nelle note di cuore, nelle note centrali. E poi ci sento anche l'iris. La violetta c'è sempre. Inizio, in mezzo e alla fine. La violetta è quella nota principale secondo me che caratterizza questo profumo. Ma non è solo un profumo di violetta. Allora, a me piace tantissimo. Vi ho detto prima che secondo me è un profumo da scoprire perché non è così banale come all'inizio possa sembrare, come ho letto da alcune recensioni. È un profumo che va scoperto, è un profumo che va provato, è un profumo che va testato. Secondo me cambia molto anche in base alla temperatura, come la maggior parte dei profumi. Io mi sono accorto che alcuni profumi che non utilizzo assolutamente mai d'estate perché mi danno fastidio, perché sulla pelle che magari è sudata, molto bagnata, molto idratata, rilasciano troppo il profumo di alcune note che io magari non avverto in altre stagioni. Quando poi le sento in primavera e in estate dove chiaramente la temperatura del corpo è un'altra, dove la temperatura esterna è un'altra, abbiamo un'altra percezione. Ecco, non so come dirvi. A me piace tantissimo. Alla fine, secondo me, ha anche un che di cipriato, di polveroso, che presumo sia dato da questa violetta così intensa. Ma la violetta non rimane solo l'unica nota che io avverto, avverto appunto anche molto l'anguria, anche se non c'è e quindi c'è il melone e io ci sento l'anguria e la buccia dell'anguria, la buccia verde dell'anguria e ci sento poi questi fiori, il fiore d'arancio, il gelsomino, i fiori di campo, mi ricorda il papavero, il fiordaliso, ecco, tutto questo mix, questo bouquet floreale che secondo me alla fine poi si sente. Ha una durata sulla mia pelle, devo dire, abbastanza generosa, sulle 4-5 ore. Se lo utilizzo per andare al lavoro e quindi entro in macchina dove sono praticamente inondata di profumo, perché io non metto uno spruzzo di profumo, io ne metto 5 o 6, ne metto 2 sul collo, 2 sulle braccia, sui capelli, io sono una nuvola di profumo, al momento nessuno si è mai lamentato e anche perché i profumi comunque che uso non sono particolarmente forti, ce n'è uno che io adoro e devo metterne una spruzzata perché si sente tantissimo, ma ve ne parlerò più avanti. Allora, l'immagine che mi appare quando spruzzo questo profumo, e quando chiudo gli occhi e sento, mamma mia quanto è buono, questo mix di fragranze è quella di un giardino, un giardino incantato, un giardino incolto, dove per terra troviamo proprio nella bassa vegetazione queste violette selvatiche, in fondo scorgo un casale, magari un po' diroccato, dove abbiamo un tavolo con una tovaglia di fiandra, che era come quelle che aveva la mia nonna, e dove ci sono questi vassoi pieni di frutta, di ananas, dove ci sono anche dei mazzi di fiori di campo, fioriti, che regalano quel tocco di colore, quel tocco di profumo. Ecco, ho questa immagine molto romantica, magari anche un po' bucolica, che mi accompagna quando io mi spruzzo questo profumo e mi piace davvero tantissimo. È un profumo molto molto delicato e che comunque alla fine diventa un profumo molto intimo, perché lo si sente solo sulla sua propria pelle, non lascia una scia, però comunque rimane, è un profumo che sulla mia pelle rimane anche fino a sera. Magari proprio una leggerissima sensazione, però se poi io lo vado ad annusare, lo sento. Questo per 100 ml lo trovate sui social, sui siti internet, sulle profumerie online, dai 91 ai 110 euro. Capisco che per un profumo del genere è un costo, infatti io me lo sono fatta regalare al compleanno. Ha anche un flacone bellissimo dove ricorda le cellette delle api, che è un po' il marchio di presentazione di Kerlen. Che dirvi, se l'avessi dovuto comprare così per così per sfizio non l'avrei comprato per 110 euro. Ci sono altri profumi che mi intrigano e che vorrei provare, però essendo un regalo io ho già tentato e diciamo è andato a buon fine, quindi me lo custodirò. Come vedete l'ho usato parecchio insomma. Lo custodirò e in questo autunno, all'inizio di questo autunno, lo utilizzo ancora. Allora, ultimo profumo, che per me è spaziale. Non so se lo vedete, ok. È gemma di sale della strega del castello. Chi è la strega del castello? Allora, la strega del castello io è Caterina, che è il naso di questi atelier che ci sono sia a Genova che a Milano. Comunque la casa fondatrice è a Genova. Caterina è il naso di questo atelier di profumi ed è un brand creato dalle tre sorelle, che sono Giovanna, Emanuele e Caterina. È un atelier che c'è sia a Genova che a Milano, come vi dicevo. Io l'ho scoperto grazie a Giulia Cova, che non finirò mai di ringraziare perché mi ha introdotto in questo mondo così meraviglioso della Cosmesi, perché mi ha fatto conoscere e mi fa conoscere tantissime novità, perché è il guru, secondo me, della Cosmesi. Lei è preparatissima, è brava, è simpatica. Insomma, Giulia Cova è Giulia Cova. E l'ho scoperta tramite una diretta che aveva fatto Giulia Cova con Caterina per parlare appunto di profumi del suo atelier e della sua casa. Ci sono tantissime fragranze, molto 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 particolari nel suo negozio. Io, come vi dicevo, ho comprato al buio leggendo le note che ci sono poi descritte in ogni fragranza. Se a qualcuno interessa nei loro atelier loro preparano anche profumi su misura, dove Caterina vi aiuterà a scegliere le fragranze che più vi rispecchiano e che più vi sono consone, insomma. Io ho voluto provare questo kit di tre mini sites, mini taglie, campioncini no, perché comunque sono... aspettate che l'ho scritto, perché io qua non ci vedo assolutamente niente. Sono 15 ml. Io ho comprato tre mignon, tre fragranze mignon, 15 ml e 60 euro, quindi 20 euro per 15 ml, che vabbè non è pochissimo, ma non è neanche tantissimo. E cosa vi devo dire? L'esperienza con questa... con tutti i profumi di Caterina, della strega del castello, per me sono un'esperienza pazzesca. Vi leggo quello che ho scritto perché ho paura che poi non riesco a raccontarvelo bene. Non sono i soliti profumi. La mia opinione personale è che questi brand di nicchia, si dice così, sono dei piccoli capolavori, uno scrigno di emozioni e di ricordo in uno spruzzo. Sono dei viaggi sensoriali meravigliosi. Io le sensazioni che ho provato con questo profumo e con le altre due fragranze non le ho provate con nessun altro profumo al momento provato. La fragranza di Gemma e Sale è una fragranza energica, salata, marina, molto fresca. È il profumo... cerco di descriverlo perché non so come presentarvelo. È il profumo del mare di fine estate. Quando incombe un temporale, gli spruzzi delle onde ti bagnano. Qualche goccia ci va sulla pelle, qualche goccia ci va sulla faccia e ti ritrovi su una spiaggia deserta mediterranea con il vento tra i capelli e queste gocce di acqua di mare sulla pelle. E chi non ha mai fatto l'esperienza di leccarsi con la lingua le gocce che ci arrivano sulla faccia? Penso sia un'esperienza che da bambini abbiamo fatto tutti per sapere qual è il sapore dell'acqua di mare. Ebbene, io con questo profumo rivivo ogni volta quella sensazione. Mamma mia! È un profumo secondo me delizioso che sa di sale. Sale sulla pelle. Una sensazione fresca, molto intensa. Una fragranza che mi emoziona ogni volta che la indosso. Questa è una fragranza solo mia. Non la metto quando esco. La metto quando sono in casa. È una fragranza molto intima che mi concedo con piacere per potermi perdere con tranquillità nel ricordo, per poter viaggiare con la mente. È un'esplosione di sale, è un'esplosione di mare. È una nota nostalgica, malinconica, però ricca di energia che ti fa salutare l'estate o comunque quella tua visita magari anche di un solo giorno al mare e poi tu te la porti a casa con questa fragranza. Io davvero questa fragranza la uso solo ed esclusivamente per me. Intima non perché sia poco profumata, tanto delicata. Una fragranza intima perché la voglio solo ed esclusivamente per me. Perché me la voglio gustare nei momenti in cui sono in casa, in cui magari sto facendo i mestieri, voglio ricordarmi una bella giornata, voglio ricordarmi un particolare momento. Mi spruzzo questa fragranza e nulla. E viaggio. Ecco, è un viaggio emozionale, un viaggio nelle fragranze. È un viaggio molto personale che secondo me ogni persona con un profumo può fare, ovviamente scegliendo il profumo che più gli piace. Il costo ve l'ho detto. Io vi consiglio di andare sul sito della Strega del Castello perché è un sito davvero, tra l'altro, costruito benissimo dove racconta la storia, dove spiega le fragranze, dove spiega il naso, con quale sceglie le fragranze. È un momento piacevole di lettura, di arricchimento, di informazione che secondo me è davvero molto molto carino. Io finisco qui perché non so per quanto tempo ho parlato nonostante l'interruzione e fatemi sapere se questi tipi di video vi possono piacere. Non sono gli unici profumi che dall'estate mi portano e mi introducono all'autunno, ne ho almeno altri cinque o sei. Se vi interessa faremo poi una seconda parte. Comunque pensavo appunto di presentarvi altri profumi perché ne ho davvero tanti e poi come vi dicevo appunto il profumo è una parte molto intima, molto coinvolgente della mia vita che fa parte di me da sempre e quindi mi piace anche condividerla e potervi raccontare quello che i profumi mi raccontano, le emozioni che mi danno e i ricordi che mi rimandano. Io ritorno nelle mie camere, nei miei alloggi come le principesse, qui adesso aprirò, farò girare l'aria, igienizzerò, preparerò il pranzo e poi salirò in modo che gli altri possano stare nella stanza in cui sono stata io. Vi ringrazio di essere arrivati fino a qua se ci siete arrivati e ci vediamo presto con un nuovo video. Grazie e buona giornata a tutti. Ciao!